Guardate è stata una notizia tremenda, io conoscevo Simpei da 15 anni, abbiamo lavorato assieme, ho avuto l'onore di lavorare con lui perché era una persona non buona, buonissima, solare, era una persona che voleva integrarsi, infatti ridendo diceva tu sei spies dai furlangs e infatti veramente si era calato nella nostra comunità. Io ho lavorato con lui vendendo sedie in Giappone ed era positivo, si cercava sempre di migliorare il prodotto, aveva una cultura vasta e voleva veramente unire il Friuli, l'Italia con il Giappone, è stata una cosa tremenda. E' ancora scosso Piero Furlani, sindaco neo eletto di Manzano, la città della sedia. Tutti sono rimasti sconvolti dalla morte totalmente ingiusta di Simpei Tominaga, ma lui è uno di quelli che è stato colpito in particolare dalla notizia tremenda, dopo i 15 anni trascorsi collaborando con l'imprenditore nipponico per esportare le sedie made in Manzano sul mercato giapponese con tanti aneddoti da ricordare. Beh, aveva portato, questo devo dire, aveva portato un architetto giapponese per fare una sedia. Beh, una settimana abbiamo perso per spostare un centimetro avanti, un centimetro indietro, però era veramente bello lavorare con lui. Una morte alla quale si fa fatica a rassegnarsi per la sua gratuità e perché è andata a colpire un uomo che voleva semplicemente fare del bene, difendere un ragazzo da un pestaggio, emblema di una Udine in cui forse la situazione sulla sicurezza sta effettivamente sfuggendo un po' di mano. E queste cose a Udine non devono succedere. Io venivo a scuola a Udine, Udine era, eri a casa a Udine, potevi camminare per Udine tranquillamente, ridere, scherzare con tutti, avere il contatto con tutte le persone. Questo non può succedere, non è amissibile. Bisogna, secondo me, immediatamente tutelare i tutori dell'ordine perché facciano il loro mestiere e non si ritrovino il giorno dopo quelli che li hanno preso e portati dentro e li trovano il giorno dopo davanti e li scherniscono. Io ho assistito a una cosa tremenda, secondo me. Mia figlia un giorno è arrivata in ritardo col treno, quando c'erano le alluvioni, è arrivata alle 2 di notte. Hanno dovuto scortare, sia le forze dell'ordine sia i militari, e hanno dovuto scortare i passeggeri alle macchine, una cosa inammissibile.